Nenè! Nenaka! È una cosa che non è stata finora mai provata. Cambiare il nostro Camilleri per ogni episodio, in modo da poter avere un Camilleri dai 6 fino ai 55 anni. Nenè! Mangia Nenè, casinato il scioppio. L'onore di poter impersonare Camilleri. Andai a Camilleri. Nenè! In questo episodio è un giovane che esce dalle brutture della guerra. Io sono stato chiamato a interpretare l'Andrea Camilleri che comincia la sua carriera teatrale come regista. Il mio personaggio è lo scrittore Andrea Camilleri all'età di 50 anni. Andrea! Lei è il professor Camilleri. Sicuramente originale il fatto di fare interpretare a dieci diversi attori lo stesso personaggio. Andrea Camilleri, piacere! Come ti chiami? Camilleri.